Il mio lavoro è stato commissionato dai musici in occasione del loro settantesimo anniversario dal primo concerto della loro fondazione. Il mio lavoro fondamentalmente è stato nel cercare all'interno dell'orchestra d'archi con il supporto del pianoforte tutta una serie di sfumature e di colori che riprendevano in parte i colori della tavolozza orchestrale però nello stesso tempo mi sono anche divertito a ricrearne di nuovi, quindi a creare delle nuove combinazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.